C'è tra te e non aiutandomi all'ascolta, diventerai semplicemente una militante dell'antimafia con la radonaca e la supera è stato però smascherato dai magistrati che vi hanno inviato un avviso di gerenzia per la simulazione di ghiago e fatte dichiarazioni. Dimo un benedirnello, quello del prossimo 16 dicembre per la sanità italiana, scioperanno 50.000 gerenzi alla macchina e 5.000 gerenzi e si moscheranno il resto di missioni di scuola. Sto riprendendo pure voi, via! Sì, pure voi vi sto riprendendo, sì, sì. Ciao, Noemi! Sì, pure voi vi sto riprendendo, sì, sì. Sì, pure voi vi sto riprendendo, sì, sì. Sì, pure voi vi sto riprendendo, sì, sì. Balla, 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 Noemi, balla? Come balli? Aspetta, aspetta. Aspetta. Questo vuoi? Questo vuoi? Questo vuoi? Grazie, 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 grazie. Noemi! Ciao! C'era una piazza, grazie, grazie. Non ciò ma è un po' di spazio. C'era una gonnellina a pieghe? Mi piaceva, forza. Forza. Grigia e la cucina rossa di sopra. Mi sono andata, non ciò ma è un po' di spazio. 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 Scusate. Tenevo una bella, un pochino bianco, un pochino bianco, un pochino bianco, un pochino bianco. Le mandiamo da fare una faccina di bello. Oh, che sei bella. E Zia, sposta di voi. Noemi, fatti vedere, Noemi. Vieni, l'anzia, vieni. Vieni, fa l'anzia, vieni. Noemi, vieni. Vieni, vieni, l'anzia, andiamo. Vieni, l'anzia. Vieni, vieni, la gica, va a trovare la gica, vai. Va a trovare la gica. Di là sta la gica. va dentro, no se te ne vai, eh sì la ferma con quella mano, vai la chica, vai, va dentro, togliertemi, quello che vede che non tiene la porta aperta, vai mi, basta la chica, i palloncini è andata la chica, vai la venta, vai, vai la chica, Scusa, vieni, Naimi, Allora, 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 All Grazie a tutti. 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 grazie a tutti. 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 a tutti.